Qual è la cosa più importante nella tua vita adesso? Sei vivo adesso, non è così? Sadhguru, ok Sadhguru, ma un rotolo di mille rupie Sadhguru, ma non so dove andare. Va bene, anche quello è importante adesso. Ma qual è la cosa più importante adesso? Sei vivo adesso, non è così? Siccome sei vivo, la tua famiglia è diventata importante, i tuoi soldi sono diventati importanti, il tuo paese è diventato importante, così tante altre cose sono diventate importanti solo perché sei vivo adesso. E questa è la cosa più importante, che tu sia vivo adesso è la cosa più importante nella tua vita adesso. Quindi, supponi, supponi che domattina ti svegli. Sai, ogni giorno un quarto di milione di persone muoiono sul pianeta, morte naturale. Un quarto di milione di persone muoiono, ma tu no. Domani mattina ti sei svegliato. Controlla, controlla, sono vivo. Se sei vivo, ti farai un gran sorriso. Se sei vivo, se non lo sei ti scuserò. Ti farai un bel sorriso, se sei vivo. E se un quarto di milione di persone sono morte, almeno due o tre milioni di persone hanno perso qualcuno al loro caro, Allora, controlla quelle tre o quattro persone che sono molto importanti nella tua vita. Tutte loro sono vive oggi. Un altro gran sorriso. Poi, controlla l'ora. Sono le undici e trenta. Sei ancora vivo. Non pensare è uno scherzo. Ciò che scorre qui non è l'orologio. È la tua vita. Non è l'orologio che scorre via. Non è l'orologio che scorre via. È la tua vita che scorre via. E sono le dodici. Sei ancora vivo. Devi promettermi questo. Ogni volta che controlli l'ora, devi farti un sorriso se sei ancora vivo. Se sei morto, sei perdonato. Ma così tante persone camminano per strada, come se praticassero la postura per la loro tomba. non preoccuparti. Verrà naturalmente. Ti prego. La morte è super efficiente. Non ha bisogno di pratica. Quando accade, 100%. Nessuno è mai morto in modo inefficiente. La gente vive in modo inefficiente, ma nessuno è morto in modo inefficiente. Quindi mi prometterai questo. Ogni volta che controlli l'orologio, devi farti un sorriso. Ancora attivo. Ancora attivo. Non sai come stia accadendo. Lo sai davvero? Lo sai come questo stia accadendo? No. E così tante persone, che erano così reali, proprio come me e te, sono andate. Proprio andate. Non si vedono da nessuna parte. Se giungi all'idea di mortalità una volta ogni tanto, ti renderà depresso. Ti renderà pauroso. Se ci vivi insieme ogni momento, ti renderà assolutamente esuberante e vivo. perché è solo quest'unica cosa che questo non è per sempre. Questo è solo per un breve periodo di tempo. E più sei gioioso, più breve diventa. Se sei estatico, svanirai in un attimo. Sì. Se vuoi allungarlo, devi rendere te stesso veramente sofferente. altrimenti sarà finito in un attimo. Se scendi a patti con questo, se vivi in questo modo, che ogni momento apprezzi una cosa, è solo una cosa, perché la cosa più importante nella tua vita è che sei vivo adesso. Essere vivo, pienamente vivo, al 100% vivo, è la cosa più importante, perché solo se qualcosa è al 100% viva, puoi far sì che renda qualcosa di bello. Vedi, hai una piantina a casa tua, o diciamo un albero di mango a casa tua. È così. Ti sta semplicemente imitando. Puoi farlo spuntare con tanta dolcezza? No. È vivo alla grande. Ora puoi aspettarti dolcezza da lui. nessuno deve insegnare all'albero di mango che è vivo. Per favore, dai dolcezza. In ogni caso uscirà fuori. Non è così? Le persone infelici devono essere istruite. Per favore, sia amorevole, sia carino con le persone, gentile con le persone. Fai questo, fai quello. Tutte queste cose sono necessarie perché in qualche modo sei diventato una mezza vita. Se fossi vivo in modo esuberante, è naturale, per la consapevolezza umana, trasudare dolcezza in ogni momento della tua vita. Non sappiamo quali grandi cose farai o no. Non sappiamo se scalerai il monte Everest o no. Non sappiamo se correrai più veloce del signor Bolt o no. Non sappiamo se diventerai l'uomo o la donna più ricco del mondo o no. Ma, questa cosa la devi fare per te stesso. Questa cosa te la meriti. Questa cosa è al 100% nelle tue mani che puoi vivere qui come un essere umano gioioso. Questo è possibile per ciascuno di noi. La nostra capacità di sistemare il mondo intorno a noi soggetta a varie realtà. Alcune cose funzionano, altre non funzionano. Perché questo implica troppe forze. A volte va a posto, a volte no. Ma, nelle nostre vite, se faremo ogni cosa che possiamo fare o no, è determinato da questo, che solo se sei gioioso per tua stessa natura, cioè, non hai nessuna paura di soffrire, solo quando non hai nessuna paura di soffrire, oserai percorrere la tua vita a grandi passi. Ogni cosa che puoi fare, la farai. Nelle nostre vite, se non facciamo ciò che non possiamo fare, non è un problema. Ma se non facciamo ciò che possiamo fare, siamo una vita disastrosa. È il mio desiderio e la mia benedizione che tu non diventi un tale disastro. Ogni cosa che puoi fare deve accadere in questa vita. se questo deve accadere, l'atmosfera fondamentale che è necessaria è che tu sia un essere umano gioioso per tua stessa natura. Che ore sono? Ancora attivo? Facciamolo! Grazie! Grazie! So è buono!